Amici del mais calconero, oggi vado a fare un piatto in onore dei miei amici calabresi pasta all'anduja calabrese, eccola qua buona, andiamo a prepararla intanto faccio un soffritto di cipolla e vado a sfumare con del vino bianco ho aggiunto dell'aba nero piccante, poi vai, polpa di pomodoro pasta scolata, fuoco spento e adesso vado ad aggiungere queste caramelle di anduja guarda come si stanno sciogliendo col calore guarda che spettacolo, vogliamo esagerare? Esageriamo pecorino, follower, piatto strepitoso andiamo a prenderlo, guarda, così, così ma che è questo piatto? fantastico, mi sono sporcato? rosso sul rosso, alla prossima!